Un uomo che camminava per un campo, si imbatteva in una tigre, si mise a correre, pallonato dalla tigre, giunto a un precipizio, si afferrò alla radice di una vite selvatica e si lasciò penzolare, oltre l'orlo, la tigre lo fiutava dall'alto, tremando, l'uomo guardò giù, dove? In fondo, all'abisso, un'altra tigre lo aspettava per divorarlo, soltanto la vite, l'orenceva, due topi, uno bianco e uno nero, cominciarono a rosicchiare, pian piano, la vite, l'uomo scorse accanto a sé, una bellissima fragola, afferrandosi alla vite, con una mano sola, con l'altra, spicco, la fragola, com'era, dolce.